Il 25 giugno del 1984 muore a Parigi uno dei più grandi pensatori del XX secolo, Michel Foucault, francese, nato a Poitiers ma conosciuto in tutto il mondo, è diventato famoso soprattutto per la storia della follia e in particolare per la storia della sessualità. Un'opera che permise a Foucault di indagare i cambiamenti dell'uomo contemporaneo e della società contemporanea, le dinamiche del sistema capitalista e le sue conseguenze sui comportamenti e sui comportamenti umani. Fu un'opera impegnativa che lo impegnò in tre volumi, l'ultimo dei quali Foucault lo concluse pochi mesi prima di morire all'età di 57 anni.